Sì, stava finendo il discorso del possibile scambio Rabiot-Paredes, Mario, quindi dicevi che c'era questa voce, questa fonte abbastanza insomma rifidabile che... Perché è la stessa che mi disse prima di Vlaovic, quindi è affidabile. Io ho l'unico dubbio che ho, ma ripeto, non sulla fonte, sul fatto che sia fattibile e che da quello che so io, ma non che so io, era evidente, non è che io non so niente. Rabiot si è lasciato malissimo col PSG. Guarda, qui in Inghilterra si sta parlando di Klopp, molto interessato a Rabiot e fa lo scambio Firmino-Rabiot. Perché Firmino anche lui vuole andare al Mondiale, non gioca tantissimo a Liverpool e Rabiot comunque in panchina là ci starebbe anche. E quindi... E a Klopp comunque piace come giocatore, quindi probabilmente gli darà aspetto. Sì, sì, sì. Probabilmente più spazio a Rabiot che a Firmino. E quindi si sta parlando di questo scambio. E quindi in Inghilterra sono due o tre giorni che ne stanno parlando. Ah, solo due o tre giorni, quindi è da poco questa. Sì, è da poco. E poi il Liverpool non ha fatto molto campagna acquisti. Attenzione, il Tottenham si è rafforzato moltissimo, il Chelsea anche, il City ha preso quel fenomeno norvegese. Il Manchester United non si sa bene cosa farà con questo nuovo allenatore, però il Liverpool deve rafforzarsi perché adesso in questo momento va davanti il Chelsea, il City e il Tottenham e se vuole arrivare nei primi quattro o vincere la Premier League ha bisogno di fare qualche cambio. E poi è andato via a Mané. Sì. Sì, è vero, è andato via a Mané. Sì, è andato via a Mané al Bayern, cavolo. Eh sì. No, quello che ho visto è che il Tottenham praticamente adesso ha comprato quasi tutti i giocatori della Premier League però. Sì, è interessante. Non è più andato a prenderli negli altri campionati. Gli è andati a prendere direttamente dalla Premier League. E c'è un motivo sicuro. Sì, 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 sì. No, ma sta allestendo una buona squadra, Conte. Io, secondo me, una scommessina su Tottenham che vince la Premier, potrebbero essere soldi ben investiti. Perché Conte un trofeo lo porta a casa quest'anno. Almeno uno lo porta a casa. Perché Conte comunque si vede che non riesce ad andare avanti in Champions. Non è che tira la carretta e dice provo ad andare oltre gli ottavi. Lui rinuncia magari ad andare oltre e si concentra solo sulla Premier, mentre Chelsea, Liverpool, eccetera, City, si devono concentrare per andare fino in fondo. E quindi Conte è bravissimo in questa cosa qua. L'unico problema che hanno queste squadre di Premier, che sono questa qua che ho menzionato, è che hanno tanti giocatori che andranno al Mondiale. È vero. E come ho detto prima d'ora, i prossimi campionati sono, e anche la Champions League, è completamente anomalo perché si servono tutti per 50 giorni. Sì. Ecco perché se la Juventus... Se la Juventus fa una campagna acquisti e gioca molto sull'italiano, la Juventus si troverà durante quei 50 giorni, andranno a fare questa tournée in America, faranno un po' di partite con delle squadre e potranno provare qualche giovane, poi bisogna vedere Allegri cosa vorrà fare, però sai, provare qualche cosa di nuovo, tenere la squadra allenata. Quando ritorneranno quelli dalle nazionali, torneranno un po' spremuti, no? I argentini, questa gente che comunque andrà avanti al Mondiale dell'Argentina. Sicuramente. Attenzione, le mie favorite per il Mondiale sono il Portogallo e l'Argentina. E non voglio dire che i catarini hanno già organizzato la finale Ronaldo contro Messi, però potrebbe anche essere che saldi fuori così. Però, allora, Ronaldo è molto motivato a vincere il Mondiale, però l'Argentina ha un vantaggio, che i suoi giocatori sono amici. Vanno in vacanze insieme. E questo fa squadra. Vincere sempre lì in Spagna. Hai ragione. E questo è un grosso vantaggio che l'Argentina ha rispetto alle altre nazionali. Quindi, i giocatori argentini andranno molto avanti nel Mondiale, secondo me, e quindi questi giocatori torneranno un po' spremuti. E una squadra come la Juventus, che magari ha molti più italiani che non vanno al Mondiale, potrebbe avere un vantaggio non solo in Italia, ma potrebbe essere anche un outsider in Champions League. Perché se le squadre di Premier arrivano tutte spremute, anche Rema Dei, Barcellona, queste altre squadre che potrebbero vincere, perché hanno tanti nazionali, la Juventus potrebbe avere un vantaggio. Con Allegri come allenatore non lo so se arriva fino a vincere. Però si è rafforzata anche a livello, i tecnici hanno preso quel match analyst, eccetera. Qualcosina nella squadra di Allegri a livello di allenatori è stato fatto. Hanno preso Bianco, hanno cambiato gli allenatori dell'Under-19 e dell'Under-23. Queste cose potrebbero addirittura aiutare Allegri a fare bene. Quindi diamoli la possibilità. Probabilmente questo è anche il motivo, perché l'hanno confermato. Hanno detto, ok, gli abbiamo aggiustato la squadra, gli abbiamo aggiustato l'equipe di allenatori. Vediamo adesso che cosa fa. Però secondo me, se nelle prime dieci partite Allegri non è primo, o nei primi quattro, allora a quel punto potrebbe esserci l'esonero. E allora lì, chissà se potrebbe arrivare Zidane o qualcun altro. Sì, sì, no, 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 questa è una cosa fattibile. Io, tu hai spiegato benissimo, sono, per quello che sono, non entusiasta, lo ripeto, ma sono favorevole all'arrivo di Zagnolo. Perché tu avresti già Bonucci, Gatti, Zagnolo, Chiesa, Locatelli, tutta gente, Pellegrini se dovesse rimanere. Fagioli, Miretti. Fagioli, Miretti. Ma io parlavo dei primi cinque o sei, che sono tutti nazionali e che non vanno ai mondiali. E quindi c'è, hai proprio, hai il tempo di creare un'ossatura, un'ossatura, poi, chiaro che Pobadi, Maria, questi, questi vanno ai mondiali, d'Elite se dovesse rimanere, va ai mondiali, ok. Però ne hai cinque o sei importanti che non vanno ai mondiali. E sono d'accordo con te che rispetto ad altre squadre potrebbe essere un vantaggio. Una squadra che io vedo, l'ho detto prima d'ora, e ti chiedo questo, Mario. Cosa mi dici del Monza, che sta facendo una campagna acquisti molto interessante? Secondo me farà un buon campionato il Monza. Secondo me farà un buon campionato. Qualcuno però mi ha fatto notare una cosa, che spendendo la metà la Cremonese è arrivato davanti al Monza quest'anno, no? Mi hanno fatto notare che Braida è alla Cremonese, Gagliani è al Monza, ma quello bravo ai tempi del Milan era Braida. E non gli puoi neanche dare tanto torto, eh. Ok. E quindi bisogna vedere, cioè, ci sono delle, a volte, adesso faccio un esempio, no? Icardi. Sì. Icardi se va al Monza è un'incognita, perché dovesse andare al Monza, no? E sicuramente è un buon acquisto. Sì. Ma se va con la mentalità del fine carriera, cioè uno che è passato dall'Inter al PSG al Monza, se non vai con le giuste motivazioni, a volte è meglio prendere un giocatore meno forte, ma più motivato, che vede, arriva al Monza con la bava alla bocca, hai capito? Con la fame di... Secondo me l'errore che potrebbe fare il Monza è quello, da parte di Gagliani, di fare una campagna acquisti più tipo Milan, ma sui giocatori che sono a fine carriera, chiaramente, perché quelli che sono nel pieno della carriera non vanno a Monza, e trovarsi con una squadra un po' con poche motivazioni. Ok. Secondo me non rischi, eh, di retrocedere. Però, per entrare nel giro importante, non lo so se il Monza può entrarci. Sì, rimane magari nella fascia sinistra della classifica, decima giù di lì, però non è che va ad arrivare verso la settima, sesta posizione, so, con... Ci deve ancora arrivare decima. Eh, sì. Sì, però magari, vediamo, vediamo come... Sì, no, 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 chiaro. L'allenatore, come si... Io... Voi da uno scenario, se Monza fa abbastanza bene, magari vanno via l'allenatore, Pirlo rientra in Italia e va al Monza, perché ricordiamo che lui era a Milan per dieci anni, dove ha vinto tanto, quindi Pirlo, come allenatore del Monza, facendo qualche acquisto giusto, potrebbe poi portare... Chissà, chissà, no? Però Berlusconi non è uno stupido. Per dirlo. Cioè, Berlusconi non è uno stupido, e neanche Gagliani, e secondo me quel Monza lì, nei prossimi tre anni, farà bene. Sì, no, 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 ma sono d'accordo che assolutamente non sono degli stupidi, nella maniera più assoluta, però, a volte, e soprattutto il primo anno, che devi... cioè, ti arriva lì, dici il nome, no? Il card, ok, ti viene, è normale. E a volte questi giocatori scendono, arrivano da un grande club e non arrivano con la mentalità giusta, perché vendono il Monza come... Come un... Cioè, arrivano, che ormai vuol dire che hanno... Con la testa stanno mollando. Cosa dici di Pirlo che è andato in Turchia? Cosa dici di Pirlo che è andato in Turchia a fare allenatore? Ha fatto bene? Ne penso male, e ti spiego il perché. Te lo collego proprio col discorso di Zidane. Ok. Secondo me Zidane non ci sarebbe mai andato. Avrebbe aspettato, avrebbe aspettato un'occasione, senza fretta, ma non avrebbe allenato solo per allenare. Cioè, andare in Turchia non è facile. Non è facile. Eh sì. Lingua, nazione con usanze particolari. Sei in Europa, ma non sei in Europa. Perché sei in Europa, ma non sei in Europa. Anche Mancini non l'ha fatto bene là. Mancini era andato in Turchia. Ecco. E tra l'altro lui è andato al Galatasaray, che diciamo che è la squadra più europea, no? Tra tutte, perché era quella che giocava europea nel senso di mentalità, no? Dove vivi... Sì, sì, sì. Io fossi stato in Pirlo non l'avrei fatto. È andato alla Sampdoria della Turchia. È andato alla Sampdoria della Turchia. Eh, bravo. Avrei preferito andare in una squadra anche di serie B, ma di prima fascia. Dove magari con delle idee buone, con dei giovani buoni, ok, ricominciavo la mia scarata. Ecco. Però io lo trovo molto azzardato quello di essere andato in Turchia. Ma bisogna vedere loro cosa gli hanno detto e cosa gli hanno messo a disposizione. Perché Pirlo comunque stupido non è. È un po' un rischio. No, 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 no. Però, sai Mario, se dovesse andare bene e questa squadra arrivare nei primi tre, nei primi due in Turchia e magari vincere un trofeo là, allora Pirlo si sarà, diciamo, rimesso in gioco, no? No, 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 chiaro, chiaro. Ma sai cos'è? A volte uno deve andare anche distinto, no? Nel senso, io so per certo che Pirlo l'anno scorso ha avuto un'offerta dalla Salernitana prima di Nicola. Ok. Lui era propenso ad andare, i suoi amici, il suo interagio gli hanno detto ma no, ma cosa vai, vai a retrocedere o che, no? E poi la Salernitana si è salvata. Non so, magari andava a Pirlo e non si salvava, ma non perché Pirlo sia peggio di Nicola, cioè Nicola, diciamo, che è più abituato a lottare per non retrocedere, ha fatto un miracolo, ok, no? Però a volte l'istinto, comunque Pirlo, l'istinto di andare non era sbagliato come si pensava, perché tutti si pensava che ormai la Salernitana avesse zero possibilità e invece Sabatini ha rifatto la squadra in un certo modo e sono riusciti a salvarsi, no? Quindi alla fine sono anche le impressioni tue personali, no? Come quando noi abbiamo una proposta di lavoro, ti informi o che, però conta tanto anche poi il rapporto personale che intercorre tra le persone, no? La fiducia che ti possono dare, cioè quella cosa che percepisce, ognuno di noi percepisce in maniera diversa, no? No, ma anche la vita di fuori dal lavoro, che è importante, cioè Pirlo ha due figli piccoli, sicuramente andranno alla scuola americana, in Turchia, però bisogna vedere i figli se si adattano alla scuola, la moglie se si adatta alla... Cioè lui arriva a casa la sera, bisogna che la famiglia sia contenta. Lì quando esci, la strada non parlano tanto inglese come da altre parti. E come hai detto tu, non è tanto europea, è più araba come nazione la Turchia. Sì, sai, fa parte un po' particolare, no? Come nazione stupenda, Istanbul è un posto stupendo, però come usanze... Sai, se la tua famiglia non è contenta, tu arrivi a casa che magari hai già i problemi del campo, arrivi e trovi tua moglie e i tuoi figli scontenti, il problema del campo diventa più grosso, no? Eh sì. Mentre se tu hai un problema... Diciamo che è una bella scommessa. È una bella scommessa che ha fatto Tirlo. È una bella scommessa. Io francamente fosse stato lui non l'avrei fatta, ma non... Stiamo per parlare, eh. Non che... Io non l'avrei fatta. E tornando a quello di Zidane, facendo il paragone di due campioni, e Zidane secondo me non l'avrebbe fatta. Zidane stava fermo, aspettava, veniva l'occasione, la prendeva. Lui si vede che aveva voglia di buttarsi nella mischia, e una volta con la Salernitana ha detto di no, e la seconda ha detto di sì. Sì, sì, sì. L'avrei visto meglio una squadra come la Cremonese, come il Monza, come dicevi te no. Atalanta. Queste squadre, sì, che frizzanti, che dici ma dove arrivano con tanto entusiasmo perché sono in Serie A. L'avrei vista meglio in... Oppure una squadra, che ne so, come il Genoa, che è appena retrocesso e vuole risalire in Serie A. Sì. In modo anche da incorre... Ragazzi, vi devo salutare. Grazie, Mario. A presto. Buon proseguimento e buona settimana. Grazie a te. Perfetto. Ciao, Mario. Ciao, ragazzi. Ciao, piacere. Ciao, ciao. 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 Grazie.